Sono loro il Verona che cresce, sono loro il volto di una società che guarda al futuro con attenzione e dovizia e cura di ogni singolo particolare. Sono i giovani gialloblu della primavera e quelli anche rientrati dai vari prestiti, qui il ritiro per crescere con la maglia appunto dell'Ellas Verona. Sono in tanti, a partire dal difensore della primavera gialloblu classe 1995, Pippo Boni, capitano della formazione allenata da Massimo Pavanel che qui in ritiro ha trovato tanti compagni di quella squadra che ha fatto tante imprese in giro per l'Italia, non per ultimo il positivissimo torneo di Viareggio. C'è il compagno di reparto Riccardi, passando per Checchin fino ad arrivare a Faresca Pelluzzo, i due attaccanti gialloblu che hanno fatto grande appunto la primavera, passando anche per Zampano, per Zaccagni, ex compagno proprio di Boni nella primavera gialloblu, fino ad arrivare a Torregrossa. Ci sono anche i grandi gialloblu che nonostante la giovane età hanno fatto esperienza nel massimo campionato di Serie A lo scorso anno, passando per Valotti che se gli si viene ricordato il primo gol ancora, lo ricorda appunto con le lacrime agli occhi dalla felicità, ricordiamolo appunto nella sfida contro il Parma, fino ad arrivare a Gollini, portiere l'anno scorso appunto prelevato. Secondo ritiro per lui con l'Elas Verona, tre presenze in Serie A, l'ultima quella giocata in casa della Sampdoria, tanti pareri positivi da parte degli addetti ai lavori e da questo nucleo proprio il Verona riparte per crescere, per diventare ancora più forte.